Benvenuti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare l'ennesimo strumento con interfaccia grafica per registrare il nostro schermo mentre creiamo appunto i nostri video tutorial. Dico l'ennesimo perché come potete vedere qui sul mio canale YouTube ho creato una playlist chiamata indicativamente registrare lo schermo del PC screencast che raccoglie appunto 4 video, ben 4 video che ho già registrato nel più o meno recente passato nel quale appunto racconto varie vicissitudini avute con altri strumenti. Di registrazione dei video. Alla fine era arrivata la conclusione che lo strumento migliore era ancora un comando, un buon vecchio comando da terminale che dà comunque una certa fidabilità, anzi una garantita fidabilità sia per l'affidabilità del comando in quanto tale, del terminale in quanto tale, che non salta con strani errori, sia per il risultato finale. Quindi un audio e video praticamente perfetti, un'ottima qualità e anche una perfetta sincronizzazione fra audio e video. Però naturalmente il fatto che mi sia deciso ad utilizzare un comando a terminale non significa che abbia smesso di cercare con altri strumenti, con un'interfaccia grafica, magari con qualche opzione in più di semplice utilizzo che soddisfacesse comunque le mie e sicuramente anche le vostre esigenze in questo ambito. Quindi la ricerca non è mai conclusa e finalmente sono arrivato, dico finalmente perché con qualche prova mi sono convinto che questo strumento che si chiama, eccolo qua, Vocoscreen o Focusscreen forse dovrei dire visto che è un software sviluppato in Germania, che questo strumento, dico con un'interfaccia sommato molto semplice, come vedremo fra un attimo, Vocoscreen dunque è uno strumento che secondo me riesce finalmente a farci ottenere un risultato paragonabile in qualità a quello del comando da terminale. Quindi per chi volesse utilizzare un'interfaccia grafica invece di aprire il terminale e impostare il comando come ho già mostrato in uno dei miei video, può oggi come oggi allo stato corrente sicuramente andare sul sicuro con questo strumento. Testato e provato e non solo da me, ecco, Vocoscreen qui posso passare quindi dal mio canale alla pagina principale del sito, vedete che appunto Vocoscreen è presentato come un recording screencast with audio, quindi uno strumento per registrare il video con l'audio se necessario o meno anche. Questa è la pagina principale del sito di sviluppatore, vedete qui in alto a destra anche le icone che richiamano alcune distribuzioni famose di Linux, fra i quali l'immancabile Ubuntu, e appunto vedete che io sto usando, proprio adesso sto registrando questo video che parla di Vocoscreen con Vocoscreen stesso. E ci si accorge del fatto che sta lavorando Vocoscreen un po' perché si muovono i numerini qui in basso e un po' perché alcune opzioni come vedete sono grigiate, perché appunto Vocoscreen in questo momento è attivo e certe opzioni non le posso modificare finché sta funzionando. Passiamo magari in rapida sequenza un po' l'interfaccia, che è comunque molto semplice, di questo strumento, e vedete che l'interfaccia è fatta a schede qui in alto, la prima scheda è il video, quindi quale area del video voglio registrare, quindi c'è il full screen, la prima opzione che è quella che sto usando io adesso, cioè completamente tutto il video. Window che vuol dire posso scegliere una finestra e quindi verrà registrata solo l'area di quella finestra, oppure un'area, quindi se attivassi questa opzione verrebbe visualizzato un quadrato, un rettangolo, che si può regolare con il mouse per ampliarlo o rimpicciolirlo in modo da registrare solo quella parte. Questa è un'opzione naturalmente che viene impostata prima di iniziare la registrazione e poi non può essere toccata fino alla fine. Qui sulla destra ci sono un paio di opzioni interessanti che invece sono attive durante la registrazione, io posso attivarle o disattivarle a seconda della bisogna, cosa intendo. Il secondo qua, la seconda opzione che io non attiverò, vabbè, perché non serve, comunque è molto chiara, parla di webcam, quindi se io clicco qui, esce, si apre una finestrella con una webcam e si aggancia questa finestrella alla webcam per difetto del vostro sistema. Ecco, se avete un portatile come il mio, con una webcam integrata sul bordo superiore dello schermo, vedete che qui è già impostato zero, quindi la prima webcam viene attivata e si apre una finestra e questa finestra accende e attiva immediatamente la webcam e subito viene mostrato il contenuto della ripresa della webcam nella finestrella qua. Se avete altre webcam connesse di OSB o così, verosimilmente qui apparirà nella tendina quale webcam volete attivare, in quella finestra verrà commutato l'immagine di quella webcam. Ecco, questo è pratico se volete appunto mostrare o voi stessi o mostrare nel vostro video l'immagine di qualcosa che volete, che ponete, non so, un oggetto che ponete davanti alla webcam, lo volete mostrare, qui apparirebbe la finestra della webcam, voi mostrate l'oggetto e viene registrato. Ecco, l'altra opzione interessante è Magnification, ovvero praticamente la lente. Viene zoomato un'area dello schermo, se io attivo questa opzione, ecco, vedete che si apre una finestra in sovrapposizione che segue il movimento del mouse, vedete che più o meno al centro della finestra zoomata dalla quale viene applicato lo zoom è dove si trova in questo momento il mouse, vedete che io sono su Windows e vedete che è in mezzo alla finestra alla quale è stato applicato lo zoom. Io posso muovere il mouse, vedete che il simbolo di Debian è in mezzo a questa finestra zoomata, eccetera, eccetera. Ecco, questo è molto pratico didatticamente per i video registrati, soprattutto quando ci sono delle parti magari un po' piccole, quando si teme di non riuscire a mostrare bene nel proprio video un particolare che si sta spiegando, vedete che soprattutto per i testi vengono ingranditi bene, si possono leggere chiaramente bene. Naturalmente se il mouse si sposta troppo in basso per la grandezza della finestra, la finestra opportunamente va sopra il mouse e io posso proseguire col mio zoom, molto comodo, ecco, posso attivarlo o disattivarla durante la registrazione come potete vedere. Ecco, qui accanto c'è l'opzione della lente che può essere anche rimpicciolita come area, vedete, per difetto è una 400x200 pixel, può essere ingrandita fino a 600x200 pixel oppure rimpicciolita 200x200. Ecco, se io la rimpicciolisco, vedete che diventa un'area quadrata un po' più piccolina, più ridotta, però vedete che funziona egregiamente, molto comoda per appunto dei video tutorial. E la webcam altrettanto comoda da attivare o disattivare durante il video, non è che parte non si può più disattivare, rispettivamente non si può attivare, ma quando c'è bisogno queste opzioni sono disponibili, molto pratico. La seconda scheda, iconizzata con un microfono, che indica molto chiaramente di cosa tratta, è la sorgente audio, quindi audio può essere attivato e naturalmente anche disattivato, possiamo solo registrare il video senza audio, non è praticamente mai il caso per un video tutorial, però c'è la possibilità anche di spegnere l'audio. La sorgente può essere alzo, pulse, consiglio di usare pulse perché ormai è un sistema standard e molto diffuso, e qui ci sono le varie sorgenti riconosciute dal programma quando lo avviate. In questo momento io sto registrando con una cuffia USB, vedete USB headset, e quindi ho attivato questa sorgente perché è il microfono della cuffia, quello che sto usando, adesso che vi parlo ho attivato questa sorgente audio. Tutto qua. Terza scheda qui in alto, indicata con una bobina video da film, serve per i dettagli appunto del video che il programma in questo momento sta registrando, sta creando, il video, quindi i frame, potete attivare auto frame, si regola da solo, il codeco, ovvero con quale codifica viene creato il video, io preferisco usare libx264, e il contenitore del video, quindi avvi o mkv che è matroska, io preferisco matroska che è in formato open, quindi per i codec allo stato attuale di Vocal Screen 1.6.0, vedete qui la versione, ci sono solo, diciamo così, libx264 oppure mpe4 che non sono formati propriamente libri, ecco. probabilmente in futuro potrebbero aggiungersi, potrebbero aggiungersi formati liberi come Forbis o WebM eccetera eccetera, nulla impedisce agli sviluppatori di questo programma di aggiungere ulteriori codificatori più open, diciamo, che non questi. C'è anche l'opzione per registrare o meno il mouse, ecco, voi vedete che il mouse si sta muovendo sullo schermo perché non ho disattivato la registrazione del mouse. Attivassi questa opzione vedreste un video senza mouse, ma non è molto pratico per i tutorial, quindi lasciamo pure disattivata questa opzione. Penultima scheda è semplicemente quella dove voi dite, dove volete che venga archiviato, quindi salvato il video risultato, io ho messo il percorso la mia cartella e potete indicare il vostro player multimediale preferito che serve a mostrarvi il risultato del video se premete questo pulsante play alla fine della registrazione. Io ho messo Totem perché è lo standard di Ubuntu, non è obbligatorio metterlo qui, come non è obbligatorio usare il tasto play qui, diciamo che invece di andare in questa cartella, quindi aprire il vostro file manager Nautilus, accedere alla cartella e cercare il video potete alla fine della registrazione premere semplicemente play per far partire il vostro lettore multimediale e vedere immediatamente il risultato se è buono o meno. L'ultima scheda qua è una raccolta di link vari che riguardano il progetto, quindi questa è la pagina principale di VocoScreen, l'email per il supporto se avete domande di supporto, le mail degli sviluppatori, dove andare a recuperare l'installazione di VocoScreen per Ubuntu rispettivamente per OpenSUSE eccetera eccetera. Ecco, qui sul sito principale vedete che c'è anche il link download, vediamo un po', sposto un attimo la finestrella, download VocoScreen, vediamo cosa dicono di particolare, no, qui lo scaricano direttamente, quindi non c'è citazione di un archivio PPA o qualcosa per installare per esempio su Ubuntu con un comodo archivio PPA questo programma, che però in realtà c'è, ecco, perché se noi cerchiamo, vediamo un po', se noi cerchiamo con il gestore dei PPA che vi ho già mostrato in un video in passato, qui niente di nuovo andate a cercare sul mio canale e trovate un video che vi spiega come funziona questo YPPA manager, ecco, vediamo un po', io dovrei avere il mio PPA, ecco qua, vediamo un po' dove, 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 vocoScreen, eccolo qua, quindi in realtà non ho scaricato il pacchetto dal sito per poi installarlo, ma opportunamente e molto comodamente ho aggiunto l'archivio PPA, il repository PPA a corrispondenza a VocoScreen, che si chiama così, quindi potete andare a cercarlo e aggiungerlo al vostro sistema in modo che poi resti anche aggiornato il programma se escono nuove versioni, ecco qua, questo è il suo PPA dedicato a VocoScreen. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda l'uso dell'interfaccia, vedete, molto semplici, sono opzioni molto semplici anche da capire il loro scopo, molto semplici, molto semplici da impostare. E l'ultima cosa che mi resta da mostrarvi è un po' il resto, la parte bassa dell'interfaccia che abbiamo un po' dimenticato finora, ecco qua, quindi la parte bassa dell'interfaccia, dunque la barra di stato vi mostra come sta lavorando e con quali opzioni sta lavorando VocoScreen in questo momento, quindi qui se lasciate il mouse sempre un po' su ogni campo o pulsante vedete che esce l'aiuto o come si usa la tale l'opzione, quindi è molto semplice. Vedete qui da quanto tempo stiamo registrando, con quanti frame al secondo sta registrando, la grandezza in kilobyte attuale del video, l'ampiezza del video, in mio caso sto registrando fullscreen, quindi qui è riportata la grandezza totale dello schermo del mio portatile, con quale codifica viene registrato il video, in quale contenitore viene poi inserito il video, quindi matrosca, la sorgente audio, pulsi audio e auto come setting auto frame, vedete si regola da solo con i frame per secondo, l'auto è attivo, l'opzione è automatica. Ecco, i pulsanti qua sopra, dunque per far partire la registrazione è start oppure la scorciatoia da tastiera CTRL SHIFT F10, forse una cosa che ho scordato prima, ecco qua, ho scordato di dirvi, adesso che mi è venuto in mente parlando dei pulsanti, che c'è anche l'opzione di minimizzare, cioè di mettere icona vocal screen quando parte, ecco questa opzione io l'ho attivata, quindi quando ho premuto start, prima vocal screen, da così è andata icona, si è nascosto da solo in modo che io possa iniziare a parlare subito del video senza dover iconizzare io manualmente il programma. Ecco, torniamo a noi, dunque start oppure CTRL SHIFT F10 per farlo partire, stop, quindi fermare la registrazione, terminarla, oppure CTRL SHIFT F11, pause, quindi interrompere temporaneamente ma non finire la registrazione, CTRL SHIFT F12, che vale anche per poi farla ripartire, quindi CTRL SHIFT F12, pausa e riprendi, il play per mostrarmi il risultato del video senza abbandonare il programma, una volta che ho premuto stop posso vedere con il play immediatamente e poi ci sarebbe anche un pulsante send per mandare via mail un link del video o non so bene, dico non so bene perché in realtà meno da me non funziona questo comando, non funziona sempre, quindi ci sarebbe così sulla carta l'opzione di inviare il risultato del video via mail, ma per il momento non so se è un problema solo del mio sistema, non funziona, ma nulla di grave, l'unica cosa che ho visto che non funziona per bene, tutto il resto è praticamente perfetto. Ecco, prima di concludere magari un'ultima nota sul perché ritengo sia perfetto il risultato di questo programma, perché vi posso mostrare che Vocoscreen quando lavora in realtà usa un comando ffmpeg con il famoso libreria multimediale ffmpeg per registrare il video, vedete questo è il comando, questo scritto in bianco con sfondo nero, il comando che sta usando in questo momento, che è molto simile per non dire quasi uguale al comando a terminale che con l'alternativa a ffmpeg che è aviconv che io uso personalmente o ho usato fino adesso per registrare i video, quindi questo programma secondo me funziona bene perché praticamente sfrutta la stessa tecnica del comando a terminale, ed ecco perché secondo me finalmente c'è questo prodotto che dà risultati più che decenti e ottimali di registrazione. Ecco, io ho concluso, ho ritenuto corretto fare pubblicità a questo programma proprio per la gran qualità dei suoi risultati. Ho avuto modo di avere un brevissimo scambio di mail con gli sviluppatori per altri motivi, non per il programma in quanto tale, per altri motivi e mi hanno assicurato che hanno intenzione di andare a proseguire a lungo nello sviluppo e nel migliorare questo prodotto, quindi a maggior ragione ho voluto pubblicizzare questo strumento perché è già ottimo ora e oltretutto c'è la garanzia che verrà supportato e sviluppato ulteriormente nel futuro. Quindi se al posto di usare un comando da terminale preferite, vi sentite più a vostro agio o trovate migliore l'utilizzo per le vostre esigenze di un'interfaccia grafica come questa, anche con delle opzioni interessanti come la lente o la webcam, potete senz'altro appoggiarvi a Vocal Screen garantito che vi darà degli ottimi risultati. Con questo ho concluso, un saluto, ciao ciao e alla prossima!